L'amministrazione comunale di Lecce faccia marcia indietro sull'aumento delle tasse agli esercenti. Questo è l'appello dal consigliere regionale di Forzitari a Pari de Mazzotta, che raccoglie a sua volta la richiesta d'aiuto di alcuni commercianti leccesi. Consigliere, lei ha fatto un intervento a supporto dei commercianti di Lecce, perché c'è stato un aumento da parte del Comune per quelle che sono le tasse. Ha fatto un intervento preciso e un appello al Sindaco. Cosa ha chiesto? Il mio appello è che soprattutto dopo un anno in cui parecchi esercenti si sono stati costretti a star chiusi, non si possono vedere capitati delle cartelle che chiaramente non si aspettavano, perché c'è stato il raddoppio dei costi da parte di parecchi esercenti e quindi loro hanno lamentato questa vicenda e io chiaramente l'ho portata all'attenzione pubblica. Lei si auspicava una maggiore sensibilità da parte di questa amministrazione per i commercianti in seguito all'emergenza Covid, quindi ai disagi sostenuti? Assolutamente sì, dobbiamo essere uniti in un momento di grande difficoltà e come istituzioni credo che dobbiamo avere una maggiore sensibilità nei confronti di tutte quelle categorie che sono state maggiormente colpite dal Covid in questo anno. Io mi sono permesso di fare una chiamata ai dirigenti della Dogre e stanno cercando e lavorando per trovare una soluzione. Grazie! Grazie a tutti